Il nostro obiettivo è invece in questi sette giorni mettere in voi nuovi semi, nuovi dubbi, perché questi dubbi, questi semi cresceranno nel tempo, anche con il nostro aiuto, per poter raggiungere degli obiettivi di crescita, di cultura, che vi permetteranno di rendere al massimo le vostre potenzioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.